subito qual è il risultato che è emerso e poi commentiamo se trovo anche per quello che è stato fatto Letizia Alemanni, ciao, ciao anche a Francesco Alenolfi, ciao Francesco qua abbiamo Giorgia Cioli, Elisa Massone, Luca Zaffarano, Aliana Sedegno ciao, perfetto, allora ciao a tutti quanti, ora vi chiederò come avete lavorato, come è stato andare a scoprire quello che è il parere dei genovesi di intenzione di voto, andiamo a vedere subito però qual è il risultato finale come andranno a finire